Buon pomeriggio, sono Emanuele Piccardo, sono un critico di architettura e vi vorrei far riflettere su quello che è accaduto venerdì sera in piazza San Pietro a Roma. Il colonnato del Bernini che idealmente abbraccia il mondo, la pioggia e il silenzio scandiscono il ritmo dell'evento solenne, mistico, apocalittico, in cui l'attore protagonista è il Papa, solo che prega Dio affinché fermi la pandemia, ma il rituale non è quello convenzionale, non ci sono cardinali, preti, chirichetti a proteggerlo, un gesto che dimostra la solitudine politica del pontefici, al di là delle misure preventive anti contagio e contemporaneamente la sua precisa volontà di leader che si mette in discussione, solo a fronteggiare il male. La sceneggiatura prevede Francesco al centro della piazza, protetto da una tettoia banale all'interno di un contesto iper progettato, denso di storia. La figura del Papa riempie il vuoto della piazza attraverso il suo vestito bianco, le sue parole ferme a tratti drammatiche riempiono il silenzio. Quello a cui noi assistiamo è la rappresentazione del potere religioso all'interno del più potente spazio della cristianità, del più potente spazio al mondo, perché il soglio di Pietro e l'erede di Pietro solitario e sofferente che da solo si pone a protezione dell'intera umanità. E quindi c'è un cambio nell'iconografia dello spazio pubblico della piazza San Pietro, che noi siamo abituati a vedere sempre densa, densissima di persone durante le messe, le beatificazioni e le benedizioni domenicali che il Papa fa dalla finestra. Oggi invece leggiamo quello spazio come un grande vuoto urbano. Una scelta fatta da Bergoglio, che è un gesuita, che ridà nuova centralità allo spazio pubblico, a questa piazza barocca progettata da Gian Lorenzo Bernini. Un atto che il suo predecessore, il teologo Ratzinger, non avrebbe mai fatto e che supera anche nella sua performance comunicativa, Papa Giovanni Paolo II. Quindi un Papa solo che si carica delle difficoltà dell'umanità in questo preciso momento storico. Quindi una grande forza, una grande potenza comunicativa che deve farci riflettere soprattutto quando usciremo fuori dalla quarantena.